I pesci, signor Paco, chi m'ha infastidito? La ragazza ha dato fastidio, no? Tutto bene. Bene, 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 bene. Pacchito, pacchito. Allora, 5, 14, 20, 11, 12, 2, 10, 1 e 8. Abruzzo, Antonietta, numero 12. Buonasera, meravigliosa, avvocato Pace. Ah, 30.000 euro, mi hanno ferito, Tex. Solo feriti, ma siamo in piedi. Troviamo un blu e sarà meraviglioso riproporci alla dottoressa. Difendi il tesoro, Tex. Maria Teresa, Umbria, il 2. Buonasera, mia bella Maria Teresa, da un mertide. Un euro, un fumo. Grazie, Maria Teresa. Capelli da un cento. Dottoressa. Sì, dottoressa. Cambio, offerta. Anche questa è bella. Sì, grazie. Anche questa è bella. Ma niente, visto che il cambio me l'hanno già. Dato la possibilità, perché io volevo scegliere il 3 ancora all'inizio, diciamo. Sì. E mi hanno già dato questa possibilità di sceglielo. A questo punto, diciamo, sceglio l'altra opzione, cioè sentire l'offerta della notte. Ascoltiamo l'offerta, mi sembra giusto nella tua riflessione. Giusto il numero 3, il numero delle sue tre donne amate. Offerta per il temerario Tex Wheeler. Si va di 3 in 3, nel senso il tuo pacco è il numero 3. Oppure chiamiamo altri 3 pacchi se non vuoi accettare. Oppure, se ti vuoi fermare, 37.000 euro. Mamma, quanti soldi. Mi ha offerto una montagna colossale di soldi. E mi ha messo in difficoltà. Non volete bene, ragazzi, ma una montagna così di soldi non la posso rifiutare. Accetto l'offerta. Sono tanti, sono tantissimi, guarda. E poi, se penso che questi soldi mi arrivano dall'alto, ma cosa ci può essere di più bello? Allora, siamo felici per te. Hai driblato la matta, scongiurata la paura di dover rimanere qua e di perdere la crociera. Tua moglie sarebbe partita da sola. Invece si parte tranquillamente in coppia voi due e tutti gli amici di Trivignano. Ci sarà la crociera, bellissimo viaggio, ve lo auguriamo con tutto il cuore. 37 mila euro, come dici tu, con grande simpatia, dolcezza, caduti dall'alto. Senza mischiare il sacro e il profano ci mancherebbe. Sei un uomo troppo elegante e troppo educato per chi possa minimamente abbozzare una reprimenda. Però là brillano 75 mila, 100 mila e 250 mila euro. Anche quelli sono tantissimi soldi. So che tu sei felice, però... No, no, ti dirò una cosa in più. Farò di tutto per portarli alla fine. Cioè, non giocherò per eliminare i celesti, cioè per eliminare i rossi, ma giocherò per eliminare i celesti perché voglio portarli alla fine. Per vedere cosa avrai fatto. Però io giocherò come avessi giocato per i soldi. E' il bello di affari tuoi. In dieci anni non ci siamo annoiati una sera. Ogni sera una nuova teoria a proposito del gioco. Tot capita, tot sentenza. Allora, vediamo la prima sentenza. Chiamiamo. Mimmo, venti, la Calabria. Buonasera Mimmo, buonasera Mimmo. 50 centesimi. 50 centesimi. E adesso avrei chiamato la fatidica new entry. Otto, il Trentino, Alto Adige. Allora, quello di prima era il tuo pacco del cambio obbligato, era quello? Adesso il dottorino, Stefano. 5 euro. L'undici, la Sardegna, Maria. La bella mamma vampa, tre bambini. Tre, due, quanti? Due. Ah, terzi in arrivo. Allora, lo so. Tu dici, abbiamo vinto 37 mila euro. Giochiamo, ma giochiamo anche con la serenità di chi chiama, sapendo che ha vinto. Hai comunque fatto, avresti fatto una tripletta straordinaria, terno, secco, tre blu. Amo sempre dirlo, purtroppo stasera lo dico con grande rammarico, staremmo giocando solo per i soldi e che soldi. Tu hai detto, voglio vedere, cercare di portare in finale più soldi. Sì, cioè, il mio sogno sarebbe, indipendentemente da come è andata, di arrivare alla fine con 100.000, 250.000. Ah, come dice Nanni Moretti, facciamoci del male. Esatto. Della serie facciamoci del male. Esatto. Lei mi fa il tunnel nella Sager Torte. Va bene, continuiamo così. Facciamoci del male. Allora, la bellissima della Puglia, il 14, che ho incontrato stasera per la prima. Allora, intanto la accogliamo come si conviene, viene sia dalla Puglia ma anche da lontano. Zeruala. Zeruala, ci dica quasi tutto di Lecce. Buonasera a tutti, sono Zeruala Abrini, vengo da Veglie, provincia di Lecce. Mannata? In Marocco. Ben arrivata! Grazie. Questa è casa di tutti, se volete, se bussate, se vi va di stare con noi ad Affari Tuoi. 250.000, qua facciamo festa a noi, lo so che tu volevi farti del male, io nell'ottica classica di Affari Tuoi sono contento per te perché il rammarico, come dire, è leggermente meno. Altro pacco. Lucio, il 5 e il Molise. Lo zio, Lucio Felice, vediamo se lui ci fa felice a noi. Eppure no. 100.000 euro! Vai in fama round come Dex Wheeler. Se mi trovi anche i 75.000 euro ci scateniamo e facciamo festa. Giovanni, 10 in Lazio. L'uomo della fortuna. Giovanni, buonasera. Buonasera. Sì, festa! Antonio! Claudio, un grande di... Buon voyage! Apriamo tecnicamente, grazie Giada. Tu che avevi... Sai come i bambini con le figurine? Tu che c'hai? Prego. Io c'ho la X. Babbero! Salutiamo un uomo straordinario! Antonio Favaron! Sei te che sei straordinario